Bene, abbiamo un obiettivo importantissimo! Steph, ma perché stiamo parlando così? E perché poi ci sentono gli zombie! Eh, lo so! Allora, ci hanno dato, ok, l'incarico di riuscire a trovare una cura per far tornare gli zombie in esseri umani. Quindi siamo praticamente degli scienziati che dobbiamo fare un sacco di esperimenti in questo mondo per trovare una cura per salvare tutti questi zombie che sono abbastanza pucciosi. Ma sono carini? Devo dire che sono carini. Io li mollerei così, sono troppo bellini. Eh no, Fred, poi quando ti avvicini un po' cercano di mordere. Ah, ok, allora va bene, va bene. E ragazzi, come va? Io sono Fereniki. E io sono Steph, che si è già chiama Race, the dead! Ed eccoci qua in questo gioco super colorato e super bellissimo in cui il nostro obiettivo sarà quello di gestire un allevamento di zombie, fare degli esperimenti e trovare una cura al virus, giustamente. Allevamento, laboratorio, ci sono tante cose. C'è di tutto, c'è di tutto. Allora, il gioco non è nuovo, nuovo, nuovo. No, c'è da tanto tempo. Nel senso che in Alpha c'è da diverso tempo, però noi abbiamo preferito aspettare che lo aggiornassero un pochettino. Teoricamente adesso dovrebbe essere già messo parecchio meglio dato che sta per uscire ufficialmente su Steam, quindi siamo pronti a provarlo. La prima cosa che vogliamo fare è creare al volo il nostro personaggino. Come li vedere tutti! Eh, Fred, credo che ci siano delle possibilità davvero fantastiche. Oh mio Dio. Quindi non impazzire. Oh mio Dio. Cos'è il mio... Oh, sei una mummia! E questo è un lupetto. Oh, che non so troppo bellini. Allora, secondo me uno scienziato non può essere uno zombie. Sì, ma non può avere neanche quei capelli. Eh, questo? No, questo è bellino, dai. Questo perché è da pazzo, no? Da pazzo, sì. Ok. E siamo proprio fighi, Fred. Comunque... Siamo molto stravaganti, mettiamola. Allora, a noi hanno incaricato di salvare il mondo, trovare una cura, e abbiamo perso non so quanto tempo a creare il nostro personaggio. Quindi partiamo e muoviamoci. Allora, Fred, devo spiegare un pochettino tutto perché è pieno di cose fattibili. Secondo me un po' assomiglia a Slime Ranch, eh? Ok? Sì, no, quello è vero. Però diciamo che dovrò fare un tour sia a te sia ai consolini. Ok, ci sto. Schematizzo tantissimo. In alta sinistra, come puoi vedere, abbiamo la possibilità di catturare 5 zombie, abbiamo i nostri soldi che sono 1000 e la capacità delle celle di 15. Ok. Possiamo ampliare ovviamente le celle, quindi aumentare quella capacità, possiamo aumentare gli zombie che possiamo catturare. Giustamente, giustamente. E ovviamente possiamo guadagnare dei soldi che ci serviranno per tantissime cose. In basso a sinistra abbiamo la nostra vita e la nostra energia che serve ad esempio a fare questo. Ok. Stenderli e catturarli, caro. Bravissima. Ok. Invece, in basso, abbiamo semplicemente, diciamo, una cosa che ci mostra tutti gli oggetti che raccogliamo. Gli slot oggetti. Gli slot oggetti. Non fa una complica, gli slot oggetti. Sì, sì, sì. Per quanto riguarda invece la nostra arma, ok? Ok. Come puoi vedere, se io premo i tasti, cambia colore, perché abbiamo quattro poteri diversi. Ok. E quali sono questi poteri? Non te li dico. Come non me li dici? Non te li dico. Proviamoli direttamente. Esatto. Allora, telecamere del nostro bellissimo laboratorio. Ok. Qui possiamo creare le pozioni. Qui non so cosa sia. Servirà qualcosa. Però qua invece possiamo, ad esempio, vendere le cose che troviamo in giro. Quindi è molto interessante. Adesso ti faccio vedere un pochino come funziona. Noi facciamo, ciao bel lupetto, vedi come corre cattivo. Ma è cattivissimo. Tu cerchi di fargli un sacco di scosse e lo stendi. Ok. Dopo che lo stendi, devi utilizzare questo potere, quello viola, per prenderlo e mandarlo dentro una cella. Come su Slam Rancher, questi tempi. Esatto. Anche se è più lungo, forse. Eh sì, è un pochettino più difficile. Qua invece è pieno di cibo, che non ho ancora ben capito a che cosa serve, ma credo che se io premo E, riesco a raccoglierlo. Vedi, ci siamo presi una carota, un limone. Sì, però qualcosa servirà. Un limone. Cos'è un plum fare? È una prugna, credo, credo. Buona. E noi ce la prendiamo. Perché c'è uno zombie che si chiama come... Eh vabbè, sarà uno zombie normale, credo. Aspettilo da qualche parte, scusami. Sei tu? Nel recinto, però. Spera, ma sei brutta. Non qui in terra. Non è vero, è bellissimo. Guarda, è rosa, quindi sono io per forza. Allora. Voglio vederlo. Allora, allora, allora. Adesso ti faccio... Ti inizio a fare impazzire, ok? Insieme a te impazziranno i consolini, perché nessuno sa di queste cose. Qui abbiamo il nostro bellissimo recinto. Cosa ne so? Hai detto che vuoi Veronica, non abbiamo Veronica. Ma dove l'hai? Non so come si aggiunge qua, ok? Va bene, lo scoprirò. Mi stai rovinando la sorpresa di tutto. No, no, lo scoprirò. Però comunque vedremo. Per ora ti faccio vedere questo. Ad esempio, ok, tu fai, siamo degli scienziati, ma che cosa sappiamo fare come scienziati? Te lo mostro subito. Sappiamo fare una cosa che è fichissima. Guarda lo zombie, ok? Sì, lo sto guardando. Li tiro la mia bella pozione. E cambia colore. Così è bellissimo. Lascialo così. Guarda che carino. Vedi, così sei più bellino. Ed è anche un piacere tenerti nel recinto. Perché se sei brutto, dopo un po' smammi. Guardalo, guardalo, guardalo. Ovviamente. Ciao, bello. Come stai? Noi abbiamo catturato diversi mostri. Ok, vedi, qua ce li abbiamo tutti. Rose, Wendong. Se noi vogliamo studiare cosa ne sono le mummie, li seleziono così e viene messo in questo macchinario che analizza il mostro e cerca di scoprire delle informazioni su di esso. Quindi non solo li possiamo tenere nei recinti, ma li studiamo proprio qua. Esattamente. In queste piattaforme. Un'altra cosa importante, ovviamente, è che dobbiamo coltivare il cibo, perché il cibo ci serve sia per fare le pozioni, sia probabilmente per sommare gli zombie. Ok. Quindi ci facciamo il nostro bellissimo campetto. Oh, come su Slime Rancher. Sì, sì, sì. Ok, questo è un albero quindi di qualcosa che mi avevi detto prima. Bloom. Adesso carote o limoni? Carote, vai. Carote. Voglio vedere le carote. In elementi così, piccole, piccole, piccole. Abbiamo diverse possibilità. La città, la Coaston Cave e l'Esmerald Island. Emerald, Steph. Emerald Island. Dove vuoi andare, Fede? In città, perché gli altri non li sai pronunciare, quindi è meglio andare in un posto che tu sai dire. A beautiful tropical paradise. No, Steph, smettila. Fai penne in inglese, quindi andiamo. Andiamo in città. Ok, benvenuti in città. Come puoi vedere è bellina, ci sono anche delle belle musichette. Sì, però sarà piena di zombie, giustamente. Però una regola quando ci sono gli zombie è che in una città è sempre pieno. Infatti, guarda lì in fondo, li vedi lì alla sinistra. Eh, vabbè, ma qui c'è un party. Sono davvero tanti. È una festa. Quindi dobbiamo stare abbastanza attenti. Però, Steph, possiamo rubare anche la frutta e poi ce la piantiamo nel nostro laboratorio. Hai capito subito, eh? Può rubare tutto qui, eh. Hai capito subito? Non ti frega nessuno a te, signora Ferinichi. Ma questo è un piccolino. Ma corre. Ma schiatta, per favore. Questo ce lo prendiamo. Steph, il problema è che tu non ti sei liberato degli zombie che hai, quindi non ne possiamo prendere altri. Lo so, questa è un'ottima critica, Fer. Eh, meno male, meno male. Molto brava. Questa però è una coloring potion. Sì, è piena in giro. Non so se ci possono servire, quindi un po' le raccolgo. Prendi i pomodori. E qui abbiamo i pomodori che noi non abbiamo, appunto, nel nostro laboratorio. Quindi ce ne chiapiamo qualcuno. Sì, sì, sì. Così li piantiamo. E credo che ci serviranno per fare diverse pozioni. Allora, Fer, abbiamo bisogno però qua di iniziare a fare qualche scoperta. Siamo o non siamo degli scienziati? No. Mettia. Effettivamente no. Oddio, che me... Ah, poverino. E questo è lupo, Fer. È soltanto che un po', ho capito, non c'è gravità. Però secondo me... Allora, da quello che mi è sembrato di capire vedendo un po' le tue cose... È che devi fare più volte la stessa ricerca per scoprire. E lo so, ma io ho catturato un po' di tutto, quindi metto tutto. Non mettere il mio. Certo che metto il tuo. No, Veronica. Ciao, Veronica. Ma povera, io lo volevo nel recinto, quello col mio nome. Sei molto cattivo. Non lo voglio nel recinto. Mi basti tu, Fer, mi basti tu. Ma io lo volevo, Matt. Ok. Non gioco più. Ok, no, stai zitto, altro che non giochi più. Teoricamente, se noi andiamo qui e andiamo nelle nostre ricerche, se vedi abbiamo a Mount of the Desert 3, ok? Ok. Credo che facendone un tot, noi iniziamo a sbloccare questi luchetti. Cosa ne so? Habitat. Habitat dice che costa 10. Quindi, se noi arriviamo a 10 zombie studiati, riusciamo a scoprire delle informazioni sul suo habitat. Infatti, è quello che ti dicevo, bisogna mettere più volte la stessa specie per riuscire, ovviamente, a raccogliere delle informazioni. Perfetto. Guarda, sono comporsi un troppo di mostri nel nostro stesso laboratorio, purtroppo vengono costantemente a rompere le scatole, quindi mi sa che ce li catturiamo e li mettiamo anche loro a studiare. Ti piace? Sì. Ma si mettono così dentro il recinto. Ti odio, Steph. Ti odio. Potevamo mettere Veronica. No, hai buttato quello col mio nome nella ricerca. Io sono arrabbiatissima. No, non lo voglio questo lupo. Portalo via, è brutto. No, Fede, stai scherzando? Steph, comunque hai notato una cosa. Allo smalto nelle unghie. Allo smalto nelle unghie. Quello smalto nelle unghie. Aspetta, li cambiamo colore? Guarda. Sei ancora più bello. Ma è spero tutto. Se si riprenderà mai. Prima o poi si riprende. Continua a provare i colori? E cambiano anche le unghie, vedi? Sì, sì. Alle unghie sempre abbinate. Uh. Questo è bello, eh. Lasciamo così? Perfetto. Io credo che fra un po' si riprende e però, appunto, non so piuttosto come ho fatto a comparirne. Come si chiama questo? No, adesso voglio sapere i nomi di tutti. Ok, allora, loro si chiamano Luis e Opal. Quanti anni? 97 anni. Eh, ma siete tutti vecchietti qui, eh. Ma qua qualche giovincello non ce lo date? 8 anni. Ciao, Gigi. Ah, quindi i bambini sono davvero bambini. Sì. Hai capito. Zombie Steve. 78. E invece qua mettiamo una bella Miumi, eh, Kelly. Kelly, vai. 19 anni, questa era abbastanza giovane, questa era abbastanza giovane. Mi interessa sapere l'età, è divertente. Allora, teoricamente, se noi andiamo qua, abbiamo la possibilità di aggiungere farm, quindi dove piantare. Cello, quindi dove tenere i nostri zombie. Research pod, ok, ma costa tutto tantissimo. 9000, abbiamo 1000. 9000, abbiamo 1000. Quindi come possiamo fare dei soldi? Allora, i soldi si fanno... Come esco da questa cosa, Ferre? Aspetta, 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 Ferre. Dicevo, i soldi si fanno qui. Vedi, abbiamo il market. Ah, e vendiamo. Qualunque oggetto noi raccogliamo lo possiamo vendere. Ok. Il mio dubbio è, l'obiettivo nostro è quindi quello di piantare delle cose e poi venderle pieno pieno per fare i soldi, perché 5 dollari a cosa che piantiamo è tosta a fare soldi. No, sì, anche le pozioni costano leggermente di più, però... Eh, cavolo, non è che ci puoi fare chissà quanti soldi. Queste le vendiamo, dai, così ci facciamo qualche soldino. Esatto. Però, non lo so, secondo me dobbiamo trovare un sistema per fare più soldi, perché altrimenti, davvero, stiamo messi malissimo. Teoricamente, Revival Potion potrebbe essere qualcosa che fa riprendere le persone. Mi viene il dubbio, non è che dobbiamo utilizzare questa su di lui per farlo riprendere? Sì, 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 e devi anche scappare, Steph, perché ti fa malissimo. Mi ha dato una sberla. Mi ha dato una sberla, Fere. Ma era adatta e come? Mi ha mandato a 85 di vita. Però, ecco che abbiamo scoperto come rianimarli e farli tornare in sé. Voglio anche vedere se mi ha dato dei research points, farli tornare in vita. Comunque, B vuol dire che ci sono le api. Le api. Io le voglio, le api, Fere. Lo swamp? Ma che cos'è, secondo me? Lo swamp man, non lo so. Lo rage boost aumenta di 1. Abbiamo 1100. Quindi ce lo compriamo e possiamo prendere 6 invece che 5. Comunque costano. Allora, secondo me, c'è per forza un modo per fare più soldi. Perché per quanto costa tutto, Fere ci deve essere per forza un modo. No, per forza, per forza. Non è che magari dobbiamo provare ad andare, tipo, dove ci sono gli smeraldi. E magari li possiamo raccogliere e vendere. Ma io non so se qua ci sono gli smeraldi. Cioè, magari è solo il nome dell'isola. Però proviamo ad andarci. Dai, sembra un bel posto. Lo visitiamo e vediamo un po' com'è. Ok. Ok. Buongiorno. Salve. Salve. Non fare troppo rumore che più ti attaccano gli zombie. Lo so, lo so. Infatti faccio una stradina abbastanza distante. Vediamo se troviamo qualcosa di prezioso da vendere. Allora, c'è anche il cocco. Perché qua siamo poveri. Il cocco? Sono le piante. Il cocco. Eh, ma ci arrivo? Non lo so. C'è anche pensavo che fosse una caverna. In realtà era una montagna. Beh, quelle allucinazioni. Beh, da lontano sembrava un po' una caverna. Pochino, sì. L'ombra ingannava un pochino. Però le mie allucinazioni vedono una casetta. No, quella c'è, Stef. Anche un pontile. C'è qualche casettina. Esatto. Però la mia domanda è... È come un villaggetto dove eravamo già andati? O c'è qualcosa di diverso e di speciale? Eh, non lo sappiamo questo. Buongiorno. Vedo dei mostri. Ok. Bisogna capire se sono diversi dagli altri. E potrebbe però. Anche perché c'è qualche specie che ancora noi abbiamo trovato. E quindi poi... Tipo questo cammina un po' strano. Che cos'è? Allora, nel dubbio lo sparo. Oh! Ma ti ha schivato, Stef. No, questo è strano, eh. Guardalo. Siccome è una mumia, Fere. No, non è una mumia, Fere. No, che cosa sei? È un alieno strano. Prendilo, prendilo. Certo che lo prendo. Vieni qua. Ci servi nella nostra collezione fantastica. Ok. Poi, questo qua credo che sia un piccolino di quello che abbiamo appena catturato. Sì, 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 sono tutti uguali. Siccome non abbiamo troppi spazi, perché il nostro laboratorio è ancora piccolo. Ok. Mettiamolo con i lupi mannari e vediamo che succede. Se si attaccano, se succede qualcosa. Assolutamente sì. Ehi, ti abbiamo portato un amico. Ehi, guarda. Ti piace? Allora, per ora non sta reagendo in modo negativo. Però dobbiamo rimetterlo in vita. Esattamente. Ci prendiamo la nostra fantastica pozione per farli tornare tranquilli e bellini. Le la tiriamo addosso. Ok. Sembra che... Mi sembra che possano convivere. Tella serie. Finché non si da mangiare ti ignoro. Appena entro io, così qua mi spranano entrambi. Aspetta, aspetta. Cioè, non ti sembra che lo Swamp Man stia puntando gli zombie o no? No, fa movimenti strani e pazzo. È molto più veloce. Sembrano comunque delle bestie più cattive. Gli altri, secondo me... Ok. Li mettiamo nella ricerca. Così iniziamo a sbloccare informazioni importanti anche su di loro. Beh, ragazzi. Sì, sì, sì. Sentici un like. E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi altri episodi. Ciao, e alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti.